Grazie a tutti. Lo scopriamo poco a poco. Chiamiamo il primo malcapitato. Chi lo è? Sì, vai. Chi? Allora, sicuramente... Va, va. Sì, sì. Prego, lo vado a prendere. Sì, stai sicuro? Assolutamente, ma è molto lungo. Ale, ti prendi un applauso mio fratello. Bravo! Allora, lei mi deve scegliere... Io non c'entro già per niente. Di già. Ma di solito non c'entro granché. Comunque, allora, scegliamo la 1, la 2 o la 3? La 3. La 3. Allora, praticamente, io consegno ora a Mattia di questo bigliettino, il 3, appunto. io poi faccio partire la musica, quando mi do la musica, e il numero di parole più alto possibile che il concorrente... Allora, per ora sono 18. 18 parole? Per ogni bigliettino? Sì. Domani, in avesso dei 11, domani ci... Tu le devi dominare. Donna, lo consiglio anche più nella mia prima. No, no, no. Il numero più alto di parole possibili è in gioco i minuti. Va bene? Ma che spazio? Ma che spazio? Ma che spazio? Esatto. Insomma. Ma che, ma che, ma che, ma che? No, siamo a piedi. Vai, vai. Allora, aspetta. Sto finendo di spiegare, devi stare canto, devi fanno venire l'ansia. Allora, ricapitoliamo velocemente. 18 parole che tu devi... Questi due lavorano insieme, c'è, non mi piace. Grazie. 18 parole che tu devi indominare dall'aviale in Chiara Musso 3 passi 3 passi 3 passi entro il termine il maggior numero di parole possibile va bene? 3 passi 3 passi 3 passi 3 passi ci siamo Paolo si sta sentendo allora diamo via mi lasci una parola qual è la parola che non sai acqua è un po' la ciccucchiata ecco perché la maestra però ha detto se non so eh sì non so qual è? vai allora vai ma è un po' la ciccucchiata ma è stato partito sì sì cani cani ma si si è un po' la ciccucchiata non so pino bingo no pino va pino pino va vingone vingone Vacanzia, l'amore! Amore! Non ci sei! Non ci sei! Fai il frutto! Ti giochi! Ascensore! Allora! Basso! Due basso e tre parole dominante! Dimi a chi è? Colluso! Colluso! A te che sto colluso va bene! Vai! Fratello! Fratello! Il silenzio! Federico! Federico! E basta allora! Tre passi! No! Fratello! 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 E penso che... Arcarlo! Spassi! È due volte! Spassi! 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 Basso! 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 E' finita, è finita, un applauso! E' finita, un applauso!